La prima partita c'erano molti assenti, tra cui il portiere, abbiamo dovuto chiamare un portiere esterno che insomma era le prime armi. Questa partita noi partevamo ovviamente sfavoriti perché siamo delle immatricole del torneo, sono le prime due giornate contro le finaliste dell'anno scorso, ma questa partita con un po' di ordine e giocando correttamente non come una squadra avversaria siamo riusciti a buttare a casa il risultato abbastanza egregiamente direi. Aveva fatto errori di alcun tipo, il portiere nuovo acquisto è stato fondamentale. Diciamo che abbiamo s'affetto, però la squadra è stata compatta e abbiamo giocato molto bene, sono contento perché ce lo meritavamo, loro erano insomma parecchio forti, forse quasi migliori del torneo, quindi una prestazione ottima di tutta la squadra e sono felice perché comunque è la mia prima partita. E la tua prestazione? Ho giocato abbastanza bene, sono modesto. Per le prossime niente, speriamo di fare meglio, noi puntiamo ad andare sempre più in fondo in questo torneo, vorremmo vincere, è difficile però ce la possiamo fare dai. Grazie per questa prima vittoria in campionato. Siete contenti per questa prima vittoria? Non ci credeva nessuno, che abbiamo fatto fuori ogni pronostico. E per le prossime quindi? È tosta, la prossima è tosta. Ma quanto è buono sto capitano? Andiamo alla grande, andiamo eh. Abbiamo qui Zampetti che se ne ha nata, andiamo a vincere! Zampetti! Vorrei su cosa di serio. Oggi eravamo in tanti, abbiamo cominciato a capire come si gioca insieme, ecco, eravamo. Il portiere oggi ha fatto dei miracoli proprio mai visti prima, quindi... E per le prossime cosa vi aspettate dopo questa prestazione, diciamo? Abbiamo molti derby perché molte persone erano al massimo quando noi eravamo ancora insieme, quindi ci giocavamo, li vedevamo altri, quindi molte squadre sarà una bella partita molto amichevole.